Salve a tutti, come abbiamo già avuto l'opportunità altre volte, ci sentiamo qui da Londra, da St. Pites, io sono Fabrizio, il parroco di St. Pites, e oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Padre Giovanni dalla Sicilia, dal caldo viene lui. Allora, vogliamo parlarvi un po' di due cose molto semplici ma importanti per noi, che sono cos'è la Chiesa e chi è la Chiesa. Giovanni, cosa possiamo dire, anche se in due parole non è facile? Allora, che cos'è la Chiesa? Di solito noi abbiamo un'immagine, perché magari la omologhiamo a determinate nostre esperienze, però in realtà la Chiesa, almeno così come ci ha insegnato Gesù, è semplicemente una famiglia, una realtà di convocati, di chiamati, anche come dice lo stesso termine, ecclesia, coloro che vengono chiamati. E quando penso alla Chiesa, penso sempre che nella Chiesa la cosa importante non sono tanto i ruoli, ma chi chiama, che crea centralità e crea appunto famiglia. Quindi la Chiesa è questa grande famiglia di Dio, tutti coloro che sono chiamati, dove tutti coloro non significa soltanto alcuni, ma dove tutti sono davvero chiamati a far parte di questa Chiesa. Ecco, quindi coincidiamo sul fatto che la Chiesa accoglie tutti, tutte le culture, la diversità, in particolare la Chiesa anglicana sottolinea questo spirito di accoglienza verso tutti quanti, verso le culture, tradizioni. Per quello noi siamo un po' degli animali strani, perché siamo due italiani anglicani, però effettivamente anche si può essere anglicani essendo italiani nella nostra cultura. E' interessante, sempre riferimento alla prospettiva anglicana e anche alla concezione di Chiesa, un passo secondo me biblico. A un certo punto un tale scaccia i demoni nel nome di Gesù, ma non appartiene al gruppo degli Apostoli. Ecco perché la visione di Chiesa deve essere non secondo la nostra percezione. A un certo punto gli Apostoli dicono a Gesù, glielo impediamo perché non segue noi, Gesù corregge il tiro. Non deve seguire voi, perché lui dice non c'è nessuno che faccia del bene ma nel mio nome, perché la centralità è data da Cristo, che poi possa parlare male di me. Infatti la cosa importante è Cristo che chiama tutti, tutti senza distinzione. Credo che l'altra cosa importante da dire anche è che è molto presente, forse un po' diversamente dalla Chiesa Cattolica, perché entrambi noi abbiamo un'esperienza cattolica alle spalle, romana, cattolica, almeno per chi è anglicano, ciocio di England, d'origine. Quindi capiamo anche che la Chiesa è quello spazio dove tutto accade, quindi c'è l'incarnazione proprio, è il centro, quindi accogliamo la vita sociale, la vita culturale, la vita politica all'interno della Chiesa e l'Eucaristia un po' la trasforma, per così dire, la benedice. Senza penso distinzione tra sacro e profano, tra ciò che è culto e ciò che non è culto, perché in realtà tutto è culto e tutto è profano perché tutto è sacro nella logica dell'incarnazione. Cioè l'umano e il divino, no? Esattamente, quindi la Chiesa è il luogo dove l'uomo può trovare la pienezza di se stesso sotto tutti gli aspetti. Sotto tutti i punti di vista, su questo non solo siamo pienamente d'accordo, ma vogliamo che capiate anche che è una caratteristica della Chiesa anglicana, non perché non sia presente nella Chiesa cattolica, ma perché le Chiese nella Chiesa cattolica sono più uno spazio di culto ed esclusivamente di culto. Infatti ad alcuni forse può sembrare strano che nelle nostre Chiese, per esempio dopo la Messa, c'è il coffee time o il momento del tè, oppure che si fanno i pranzi. Alcuni pensano che è un po' profanare il luogo sacro, in realtà non è proprio così, perché la Chiesa è il luogo dove avviene la vita della comunità. Certo, e questo è importante, cioè l'incontro tra Dio e la vita succede nella Chiesa, quindi la Chiesa è quello spazio dove noi ci incontriamo, cresciamo insieme come comunità e ci conosciamo e dove si amalgama la cultura. Anche la cultura viene arricchita dalla fede, dalla preghiera, ma allo stesso tempo dà spazio alle espressioni culturali, sociali. Non deve sembrare strano, anche perché, se noi ricordiamo, i primi cristiani celebravano l'Eucarestia durante un pasto, l'agate, dove parlavano, si scambiavano le varie esperienze e celebravano il culto. Certo, certo. Bene, questo era quello che volevamo raccontare, ci sarebbe tanto da dire, ovviamente, possiamo stare qui delle ore, ma non vogliamo tenervi qui delle ore. Sicuramente avremo altre occasioni, anche con padre Giovanni, di condividere quello che pensiamo della Chiesa Anglicana, perché stiamo lavorando tanto con la comunità italiana Giovanni in Sicilia e io qui a Londra e vogliamo farla conoscere perché voi abbiate l'opportunità di avvicinarvi e di dire che forse vi sentite già anglicani anche senza saperlo. Anche senza saperlo, sì. Grazie. Grazie.